E' stata presentata ufficialmente la quattordicesima edizione del Franco Agostino Teatro Festival. Fino alla fine dell'anno scolastico sarà un susseguirsi di eventi, laboratori, spettacoli ed incontri. Il tema di fondo scelto per l'edizione 2011-2012 è la fiducia. La presidente Gloria Angelotti, introducendo il calendario degli eventi, ha più volte sottolineato l'eseguità di finanziamenti in questi tempi incerti e difficili, tagli che già hanno costretto il festival a ridurre sensibilmente il numero delle sue proposte per i ragazzi. Anche il vice sindaco di Crema, Massimo Piazzi, si è detto dispiaciuto per il contributo, a suo dire inadeguato, da parte dell'ente che rappresenta. Allora si corre ai ripari, per esempio, con il progetto Adotto una classe, mezzo con cui sponsor o privati potranno finanziare i laboratori nelle scuole. Umberto Cabini, presidente della Fondazione Teatro San Domenico, ha confermato il suo sostegno mettendo a disposizione la sua struttura per gli eventi più importanti del festival. Lo spettacolo di debutto della 14esima edizione sarà proprio ospitato dal Teatro Cittadino. Si tratta di Cubo, di Nicola Cazzalini, in scena domenica 23 ottobre. I laboratori verranno avviati nelle scuole ma anche in alcuni oratori cittadini e proporranno oltre al teatro, ritmo, giocolerie e maschere, anche corsi di comunicazione e scrittura giornalistica. Infine, il Franco Agostino Teatro Festival si conferma un progetto che supera i confini in Italia e in Europa. Sono già state programmate infatti trasferte a Melanne, località francese gemellata con Crema, il prossimo marzo e a Novara, a Vespolate, a metà giugno. Già attivate anche collaborazioni con studenti inglesi, francesi e svedesi. Grazie a tutti.